Bologna Inside, guardate, mi trovo all'entrata della sala borsa e ho guardato questo strano cartello, Amori Sgualciti, una mostra di Chiara Rappaccini. Io voglio andare proprio a vedere cos'è, perché io di amore, signori, me ne intendo. Entra in questo box e racconta la tua storia sfigata, perché strano amore sembra sfiga amore. Voglio proprio entrare in questo box, eh. Guardate qui, c'è la telecamera, sembra la poltrona di strano amore. Eh sì, sono proprio sfigato, eh. Ho ancora in mente una donna da vent'anni, eh. Cosa posso fare? È dai tempi dell'asilo che gli vado dietro, ma lei non mi considera. Amori Sgualciti, cinque lenzola Sgualciti, appese ai balconi di sala borsa, come si usa. Ma guardate che roba, ma questo è un tormentone. Da dove sei venuta? Ma sembra un amore sfigati, ma l'amore non è così. Ma che vedo, la Cristina Duarte. Ma l'amore è come lei, il Brasile è gioia, è vero? È gioia, è felicità, è bellezza e anche sesso. Addirittura. E per te cos'è l'amore? È il sesso? No, è il rispetto, è la pazienza, è giorno dopo giorno. Anche perché ci sono momenti belli, momenti brutti e c'è da sapere superare. Perciò, se l'amore è vero, sopravvive. Quindi l'amore non è sfigato, come dice questa mostra? No, è trovare la persona giusta. Se hai trovato la persona sbagliata, pazienza, finisci, guarda avanti e cerchi un'altra, un'altra. È giusto, è fantastico. Venite ragazze, venite, diciamo. Abbiamo delle altre conterranie brasiliane, dai anche lei, tutto il Brasile abbiamo qua, in diretta per Bologna Inside, guarda. Vieni, vieni tu, vieni tu. Tu vieni da? Nord di Brasile. Ma in Brasile c'è amore sfigato o l'amore è felice? L'amore è felice, però è diverso di qua. L'amore è felice, però è diverso di qua.